Qual è lo scopo della vocazione? Essere cristiano. Lo scopo della vocazione cristiana è essere cristiano e permettere che noi siamo creati in Cristo, quindi essere cristiani vuol dire seguire Cristo, essere con Cristo. I cristiani sono coloro che appartengono a Cristo, coloro che dicono Gesù Cristo è il mio Signore, Cristo è il mio Signore. E che cosa produce questo fatto di essere, di aver scoperta la propria vocazione cristiana e riconoscere di essere, che Cristo è il mio Signore? Beh, la cosa fondamentale è che siamo figli della luce perché siamo figli di Dio. Questa è la grande prima scoperta che ci fa fare la vocazione cristiana. Si pensa solitamente che ogni uomo è figlio di Dio e che sia normale pensare che tutti siamo figli di Dio e che Dio è nostro padre. Dio è nostro padre. Mi sono rimasto molto stupito quando alcuni anni fa, trovandomi in Palestina, ero a Nazareth, durante il Ramadan, sentì il Muazzin lassù in cima, al minareto, che gridava, gridava, gridava. Ma lo faceva con una passione che mi impressionò, tanto che anche se non conosco l'arabo, dico ma cosa sta dicendo sto qui? E mi disse la guida che stava dicendo i nomi di Dio, ah bellissimo, io me li potrei avere, me li portò. E la sera ebbi questi 99 nomi di Dio che diventarono oggetto della mia preghiera. Quindi mi esi a pregare e passavo in fila a questo bellissimo, l'eterno, il misericordioso, il pietoso, e giù tutti gli aggettivi stupendi, bellissimi, però andavo avanti, andavo avanti, ma non trovavo il mio, non trovavo il mio interesse a me. C'erano tutti meno che padre, non c'era padre. Perché? Perché per poter riconoscere Dio come padre bisogna essere figli di Gesù Cristo, bisogna essere fratelli di Gesù Cristo. Perché solo Gesù Cristo, che è il figlio naturale di Dio, ci arresce i suoi fratelli e in quanto suoi fratelli anche noi diventiamo figli del padre. E in questo senso noi diventiamo i figli della luce, per cui la vocazione serve a farci diventare figli della luce, a illuminarci di questa grande verità che io, povero uomo, non sono una povera creatura, ma sono un figlio di Dio. Posso chiamare Dio papà, posso chiamare Dio padre, questo è tutto della vocazione cristiana.